Ho iniziato Watsu tanti anni fa, quando entrati nell'acqua con persone per applicare il movimento e stiramento di Zen Shiatsu che ho studiato in Giappone prima. E ho scoperto nell'acqua che c'è una nuova cosa nella forma di tenere la persona, perché la persona necessita stare ben tenuta per galleggiare. Quindi utilizziamo i nostri bracci per galleggiare, per tenere la persona. Ho trovato quando siamo nell'acqua con una persona, arriviamo a una nuova connexione più profonda con il respiro perché l'acqua aiuta queste connexioni. So, lo stesso anno che ho sviluppato Watsu, ho tornato alla terra con Tansu che tiene un sviluppamento che utilizziamo le nostre gambe e braccia per tenere la persona ben sostenuta. In questi anni ho introdotto questo come una forma di bodywork del lavoro corporeale che può combinare con Shiatsu. pochi anni fa ho visitato Tansu e sviluppato una forma più semplice per condividere entre amici. In questa forma più semplice ha un cammino con una posizione indietro della persona in cui tenere bene contenuta la persona e può accessare tutto il corpo di loro in una posizione. e ho pensato che questo può aprire un cammino dove l'esperienza di tenere una persona senza condizioni può arrivare a tutti. Grazie a tutti.